Allora eccoci qua, siamo in quel di Tropea, questa splendida piazza, per la ricorrenza della Madonna dell'Annunziata, il Centenario, e ci siamo subiti con la combriccola del Blasco, la prima tribute band di Vasco del sud Italia da 24 anni, ebbè sono tantissimi, stiamo un po' invecchiando con la musica di Vasco, ma ci fa stare bene e ci piace portarlo in giro per la Calabria, per le piazze e per i locali. Allora sono Tony B e Antonio Lampasi, quest'anno abbiamo, dopo due anni un pochettino complicati, abbiamo ripreso a suonare e abbiamo un bel calendario da qui fino a ottobre, infatti domani sera saremo a Pizzo Calabro, poi abbiamo una data a Scilla, il 30, giorno 1 data importante a San Pietro Ammaida per il primo maggio con l'ex chitarrista di Vasco Andrea Braido, periodo anni 90, il Vasco di fronte del parco per indenderci. E niente, ci auguriamo, questa sera è stata una splendida serata con una viva partecipazione del pubblico, dopo tutto quello che abbiamo passato, distanziamenti, mascherine, e si è respirato un pochettino di aria, di normalità. Ecco, ci auguriamo di continuare su questa scia e di riprenderci la nostra vita. Ringrazio il Comitato Festa per averci invitato, Peppe Macrillò, ormai ci conosciamo da 15 anni, è sempre una sicurezza, un top number one, io glielo le dico sempre come service. E niente, ringrazio i miei compagni di avventura della combricola. Grazie a tutti voi e alla prossima. Buona estate a tutti.